Sono contento soprattutto per il risultato. Oggi sinceramente non è stata un'ottima prestazione fatta da noi. Forse anche il terreno di gioco non ci ha agevolato, la bravura anche della squadra avversaria perché di fronte è una squadra forte. Però oggi non siamo stati soliti. Però nonostante tutto i ragazzi ci hanno messo tanta voglia, tanto impegno, tanta cattiveria per portare a casa questi tre punti che su un campo ostico e così sono belli. Sì, soprattutto dopo una prestazione non buona, non buona però ci sta, ci sta un calo da parte nostra, una partita così, però l'importante oggi erano i tre punti. O giocare bene o giocare male per noi sono i tre punti. Peccato per il gol nel finale e soprattutto peccato per le molte ripartenze che abbiamo sbagliato perché potremmo chiudere la partita molto prima, soprattutto anche nel primo tempo, soprattutto nel secondo tempo. Lì dovevamo essere un po' più lucidi, però è importante rapportare a casa i tre punti. E' vero che era meglio finire la partita a 2-0 perché lì c'è stata una leggerezza, però fortunatamente è avvenuta all'ultimo secondo, neanche all'ultimo minuto e ci è andata bene. Mister, le posso chiedere qualcosa sulle sostituzioni inizio secondo tempo? Innanzitutto quella di Palumbo è stata per scelta tecnica dell'impostazione di gara oppure problemi fisici del giocatore? E poi non ha avuto l'impressione che si è un po' abbassata la squadra con quel tipo di cambi, con il 3-5-2 che è diventato un 5-3-2 quasi puro? Il cambio di Di Giacomo era dovuto ai crampi, il cambio di Palumbo è anche dovuto a un fastidio al piede, un fastidio che Cosmo se lo porta da tanto tempo. Dico la sincerità che oggi non ce l'ha fatta resistere, per quello l'ho cambiato. Sapevo che andavo a creare questa difficoltà, però è anche vero che fisicamente oggi non eravamo brillanti perché è la prima volta che giocavamo su un campo del genere, campo pesante, noi abituati sempre a allenarci sul sintetico. E sapevo che l'importante era sul 2-0 tenere il risultato in port, portare a casa il risultato perché non davamo a rischiare perché loro erano molto bravi sugli esterni, soprattutto con il numero 7 di donne che ci ha messo in grossa difficoltà. Però sono stati cambi dovuti a problemi fisici ma non gravi, perché Di Giacomo erano crampi ma l'avevo messo in conto perché è un ragazzo che ha 4 mesi che non giocava e oggi è la prima partita titolare. E Palumbo è un problema che si porta dietro, non grave però è normale, non ce la faceva a finire la partita. Siamo stati bravi a fare gol nella prima occasione che ci è capitata, però forse come ho detto prima non siamo stati bravi e molto lucidi nel chiudere la partita perché abbiamo avuto tantissime ripartenze, abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio, la scelta finale e lì una squadra tecnica come noi, è vero che il campo non era in buone condizioni però doveva fare meglio, doveva chiudere la partita prima. Sono contento per tutti, soprattutto Emanuele. Emanuele è un ragazzo che sta facendo grossa difficoltà perché giustamente, voi lo sapete tutti, lui negli ultimi 5-6 anni faceva un altro sport, un altro sport e si sta impegnando alla grande. Ci mette tanto cuore, poi lui è tifoso, tifosissimo del Teramo, anzi a volte gli rimprovero troppo che sente troppo la partita, deve stare più tranquillo perché ha delle grosse qualità e pian piano stanno venendo fuori, ma a parte il gol di oggi però Emanuele piano piano partita dopo partita, anche se non sta giocando tantissimo, però sta trovando quelle misure che gli mancavano perché un conto giocare a calcetto, a calcio a 5 e un conto giocare a calcio a 11. Emanuele poi è un ragazzo d'oro, parte tifoso del Teramo, però è un ragazzo d'oro che è uno di quelli, è uno di quei leader che porta avanti il gruppo. Dovevo pensare al nostro cammino, oggi per noi era una partita difficile, la Tour si sta facendo un grosso campionato quindi bisogna fare solo i complimenti a loro, però noi dobbiamo pensare a noi e dobbiamo pensare a crescere partita dopo partita, oggi non è stata un'ottima prestazione però l'importante è che il risultato sia quello giusto. Volevo chiederti dell'importanza di Nikita lì davanti con l'elice se si è sentita. Ma è normale, è l'unico giocatore, l'unico punto di riferimento che abbiamo lì davanti, è normale quando c'è lui il nostro gioco cambia, il nostro attacco cambia, però anche lui deve capire che non c'è solo la fase possesso ma anche la fase non possesso perché si deve sacrificare di più in fase non possesso. è un grosso giocatore, siamo stati fortunati per un giocatore del genere che ci può dare una grossa mano però può fare secondo me ancora molto meglio.